Paolo Rutta, Presidente dell'Associazione Amici della Musica, vorrei sottolineare proprio il valore sociale di questa iniziativa proprio intendendo la musica, le giovani leve come strumento e come momento di riscatto per due città che comunque vivono situazioni difficili, Taranto e Napoli. Beh, Napoli oramai ha fatto della cultura il suo cavallo di battaglia, per cui sappiamo benissimo che oramai tutti quanti, tutta la città, il turismo napoletano si basa prevalentemente su un turismo culturale. Taranto sta crescendo anche in questo campo e devo dire che col Festival Paesiello di quest'anno abbiamo voluto coinvolgere moltissimo i giovani musicisti tarantini, abbiamo organizzato un'opera lirica con un'orchestra fatta di giovani appunto del territorio, idem per quanto riguarda i concerti nel Duomo organizzati in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi Musicali Giovanni Paesiello che con la sua orchestra, i suoi giovani, i suoi cantanti hanno contribuito a dare lustro a questo festival. Parliamo proprio delle caratteristiche tecniche dell'evento di questa sera. Questa sera consegniamo, come ormai viene da otto anni, il premio Giovanni Paesiello Festival, un premio che abbiamo istituito per dare un riconoscimento, un ringraziamento a chi si è prodigato nel corso della sua carriera come artista, come ente, come fondazione, come studioso, ha contribuito appunto a diffondere il lavoro, le opere del nostro concittadino. Quest'anno abbiamo deciso di assegnare il premio al Teatro di San Carlo che è stata un po' la casa culturale del nostro Giovanni Paesiello.